Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del Tg di 3B. Attenzione, arriviamo fino a ferragosto. Partiamo però da situazione attuale con tanto sole sull'Italia. Come vedete, la pressione atmosferica sta aumentando sul Mediterraneo e sul nostro paese. Qualche annuvolamento lambisce le regioni adriatiche. Però, come vi dicevo, nei prossimi giorni, pressione atmosferica in rialzo. Con queste correnti più fresche nord-occidentali che ancora interessano il nostro paese. Ma che piano piano si muoveranno verso est. Però, per oggi pomeriggio, ancora vi dicevo, vi segnalo la possibilità di qualche piovasco sul medio e basso Adriatico. Passe Marche, Abruzzo, Morise, Puglia, Basilicata. Si tratta proprio di scroci di pioggia di passaggio, nulla di eccezionale. E un minimo di instabilità anche all'estremo nord-est. Per il resto non mancano ampie zone di sereno, ma temperature anche relativamente contenute. Si fa sentire un po' di vento dai quadranti settentrionali. C'è da dire però che nella seconda parte della settimana l'alta pressione conquisterà il Mediterraneo e l'Italia in maniera sempre più decisa. Favorendo anche un rialzo delle temperature. Ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. E poi ci avviciniamo al Ferragosto. Ecco ancora con l'alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. A quel punto però sì, il caldo tornerà a essere protagonista con temperature in rialzo da nord a sud. In compenso, ripeto, condizioni meteo da piena estate. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.